Qua ci vuole un pecappo, no? Siete veramente, veramente tanti, ma tanti, tanti, tanti. Il che è una cosa bellissima, questo è il fatto di essere tanti, però essere tanti vuol dire che dobbiamo cercare di... Faccio un esempio, io nel parco di Castelnuovo faccio ricerca al tartufo, ma non perché il parco di Castelnuovo è pieno di tartufo, perché non ce n'è. Se lo vado a nascondere, però se lo vado a nascondere, quando lo vado a nascondere lo vado a tirare via, quindi non andate a cercare il tartufo perché non esiste, non c'è proprio. Esatto, quindi non c'è, quindi lo vado a nascondere. Però l'attività del mio cane, che in quel momento sa che cosa stiamo facendo, si mette seduto fermo ad aspettare, gli passano di fianco altri cani, le papere e tutta una serie di cose e il cane non le considera perché? Perché tanto è concentrato su quello che deve fare, sul piacere di ricercare qualcosa, che sia tartufo, che sia una bustina di tè, che sia qualsiasi cosa, per il cane è un piacere. Allora, una cosa da fare è questa, all'inizio gliele buttate per terra così. Allora, una cosa da fare è questa, all'inizio gliele buttate per terra così. Allora, una cosa da fare è questa, all'inizio gliele buttate per terra così. Allora, una cosa da fare è questa, all'inizio gliele buttate per terra così. Allora, una cosa da fare è questa, all'inizio gliele buttate per terra così. Allora, una cosa da fare è questa, all'inizio gliele buttate per terra così. Allora, una cosa da fare è questa, all'inizio gliele buttate per terra così. Allora, una cosa da fare è questa, all'inizio gliele buttate per terra così. Allora, una cosa da fare è questa, all'inizio gliele buttate per terra così. Allora, una cosa da fare è questa, all'inizio gliele buttate per terra così. Allora, un'inizio gliele buttate per terra così. Allora, un'inizio gliele buttate per terra così.